Io sono qui a tranquillizzare tutti i clienti che hanno fatto l'abbonamento qui e anche chi si volesse venire a scrivere che la Extra Spa è viva, la Faster Fit continuerà a garantire, a derogare il servizio, tempo massimo di fare l'entrata nelle utenze, ripristinare il gas, tutte quelle cose che non funzionavano e hanno dato, purtroppo mi scuso con tutti i clienti a nome della Faster Fit, ripeto che nulla c'entra, che hanno dato un disservizio che non merita. Rassicurazioni che il titolare del marchio Faster Fit, dato in concessione alla Vittoria SRL che di fatto gestiva la palestra fino ad oggi, ha dovuto dare di persona ieri sera a una trentina di clienti che si sono ritrovati davanti alle porte della Extra Spa, spiegando anche il motivo alla base di questa inspiegabile e improvvisa chiusura. C'è stato un malinteso perché la società Vittoria SRL che gestisce l'Extra Spa si è dimenticata di mettere fuori una comunicazione dove c'erano dei guasti alle impianti, io l'ho saputo all'ultimo, ieri sera mi sono precipitato qui perché comunque essendoci il mio nome lì e come fatto si dimostri, ci finisce sempre chi non c'entra niente sui giornali. Comunicazione tra la Vittoria SRL e i suoi clienti che ha alimentato, secondo il titolare della Faster Fit, false congetture sulle sue sorti societarie. Quello che oggi c'è scritto sui giornali non corrisponde alla verità, è vero che non c'è stata per coincidenza un'informazione giustamente dai clienti e giustamente i clienti hanno pagato un servizio e hanno tutti i diritti di arrabbiarsi. Quindi fra pochi giorni possiamo dire tranquillamente che riprenderete la vostra normale attività di palestra e di fitness? Io purtroppo non mi nascondo, sono qui con la mia faccia, già da adesso la porta è aperta, chi vuol venire questo dimostra che tutto quello che c'è scritto nei giornali non è vero, che c'è un fallimento della Vittoria SRL, tutte queste voci che ci sono in giro, quindi la Vittoria SRL non è fallita, c'è la società che gestiva l'extraspa, quindi sono tutte cattiverie che sono state dette. Giustamente magari anche in un momento di nervosismo da qualche cliente, come spesso capita in queste situazioni. Grazie. 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 Grazie.